C'è grande attesa a Napoli per l'organizzazione e soprattutto per il ritorno del Napoli Pizza Village, la grande kermesse dedicata all'arte culinaria e in particolar modo alla Regina Pizza. Stamane, come di consueto, ormai da sempre, c'è stato il sorteggio di tutti i pizzaioli, di tutte le pizzerie che parteciperanno a questo grande evento per l'assegnazione delle postazioni. Il tutto è avvenuto presso la sede del PAN, Palazzo delle Arti di Napoli, alla presenza degli organizzatori. Con oggi abbiamo tagliato ufficialmente il nastro della prossima edizione del Napoli Pizza Village. La nona, dal 13 al 22 settembre sul lungomare Caracciolo, torna l'happening più grande d'Italia, come ormai diciamo da anni, dopo la scorsa edizione quella da record, in cui abbiamo registrato oltre un milione di presenze, di nuovo 50 pizzerie unite per un evento che tutti aspettano e si preannuncia ricco di novità. Torniamo quest'anno a settembre perché a Napoli, come tutti sappiamo, ci sono le universia di a luglio, in attesa della prossima edizione, quella del 2020, della successiva, quando poi festeggeremo il decennale del Napoli Pizza Village. Ancora una volta una manifestazione in cui la pizza sarà protagonista assoluta, ma anche ricca di contenuti. Non mancheranno artisti forti e di richiamo quelli che abbiamo ospitato l'anno scorso. Si rinnova la partnership con RTL 125, quindi grande, grandissima attesa. Siamo emozionati. Il sorteggio di oggi è stato davvero entusiasmante, sentire con quale passione i pizzaiori di Napoli attendono questo evento, quindi noi siamo pronti, carichi, al lavoro già da un po' e ci rivediamo a settembre. Napoli Pizza Village si conferma strumento di promozione della città e strumento di promozione di quello che è il nostro prodotto principe della tradizione gastronomica partenopea. Sempre più un brand, sempre più un'icona nazionale ed internazionale. Il Napoli Pizza Village riesce a tenere dentro le anime della nostra città, le anime degli artigiani che rappresentano nel mondo, nell'immaginario mondiale, la nostra tradizione culinaria, ma soprattutto Napoli Pizza Village è capace di promuovere la nostra città, di promuovere la napolitanità nel mondo. Siamo al lavoro per l'edizione 2019 che appunto si terrà a settembre, ma siamo soprattutto già al lavoro per quello che sarà il nostro decennale nel 2020, che ci riserverà tante sorprese a Napoli e non solo. A supporto del nostro lavoro ovviamente ci sono dei numeri importanti, numeri in termini di presenze maturati lo scorso anno, ma sempre più il numero degli operatori che ci chiedono e che ci manifestano l'interesse a partecipare alla nostra manifestazione, motivo per cui pensiamo appunto di internazionalizzare e di uscire in termini di promozione oltre i confini napoletani e campani siamo appunto sempre più in difficoltà nel riuscire a dare spazio a quanti in termini di operatori desiderano partecipare alla manifestazione, motivo per cui tra questo imbarazzo quest'anno abbiamo istituzionalizzato un contest che ci consentirà o meglio che consentirà al pubblico di scegliere due tra le pizzerie partecipanti. Ne abbiamo scelte 48, in sostanza ne lasciamo due al pubblico che appunto potrà votare attraverso i social e scegliere quali tra le pizzerie che parteciperanno al contest completeranno l'elenco delle partecipanti all'edizione 2019. Grazie. 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 Grazie.